Salve ragazzi, sono Castoro e ben ritornati su The Evil Within. Bene ragazzi, nell'ultimo episodio siamo arrivati qui, abbiamo ucciso quella ragazzina brutta, tutta schifosa, la ragazzina di The Ring, abbiamo incontrato un nuovo boss, però non ce l'ha fatta affrontare, e siamo finiti qua, abbiamo potenziato il fucile. Chissà se lo potevo uccidere qualcosa, penso di sì, magari mi davano una chiave, di chiave non ne ho trovate, sono dei segreti, quindi bisogna spippolare più del solito, ma non c'ho proprio voglia di spippolare, tranne adesso, magari, se vado qua tipo, trovo qualcosa, i coglioni appesi trovo, ok. Ah, qui si va, no, si è bugato, ok, continuiamo, sicuramente ci sono le statuine da colpire da qualche parte, nascosti, tipo quei ciondoli di Resident Evil 4 blu, nascosti ovunque. Uh, capito lo sei, ah, ecco qua, non sono più me stesso, bene, ok, avanti si prosegue, a destra c'è qualcosa di opzionale, vediamo un po', lì c'è qualcosa che posso colpire, penso, sì. Ne varrà la pena? Una cura, ne passa la pena, colpire il fucile, ne è riparsa la pena, ah, qui si saliva anche, non è che li potevo colpire, può essere, sono in calcio magari, non consumavo colpi, uh, altri proiettili, ah, i colpi che ho consumato, oh, 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 io non so facendo niente, che cazzo ti viene, Castellanos, Sebastian, non si può correre su le scale, però si può schiacciare il b e cadere come verme, ok, andiamo avanti, c'è un più cazzo qui, si sfoga tutto quando corri, non so perché, ok, io mi curo, ok, la silinga nelle vene, oh, qui c'è un qualche altra cosa, un cadavere appeso, chissà se si risveglia, io ti incendo, non si sa mai, non c'è uscito niente, oh, che casino fanno questi uccelli, guardalo, e si aveva la cosa dietro, dammi la chiave, olè, chiave trovata, me la so chiamata, perché si era abbastanza telefonata, quindi anche nei cadaveri possono esserci 6 statuine, magari era dietro, voglio uccidere un uccello, è mortale, oh, non l'ho colpito, che cazzo è, sarà, Josef, o Kidman, spero più Kidman, Não, não era cierto, ho un ronzio in testa, come se stesso perงarsi in due, ma ora inizio, inizio ad abituarmici. Hai visto Kidman? No. Mi sono ritrovato qui, forse. Sono svenuto. Oppure... mi sono trasformato. Vieni, entriamo. Un'altra? Apri quella porta! Ci sto provando. Mi serve un po' di tempo. Un merda. No. Brutta signora. Brutto signore. Io ti incendio. Ok. Posso usare i balini? Giuseppe, dai. Non posso trattenerli a lungo. Solo un attimo. Continuo a copermi. Uh, che cos'è? Ah, che gant? Ma ce l'avevo preso, ah, che gant. Struntz! No. No. Va colpendo Yosef Yosef Muori Puttana Merda Madonna caro ma come lo immagino No mi sono curato No vai via Vai via Vaffanculo Pure tu Aspetta il cervellino me lo devo prendere Aiuto Che è successo Ah è caduto il pavimento Ok Siamo un paio di ardi Ok Ho sfidecato una cura Guarda il pavimento di ardi Cervello Vediamoci sempre tutto Aspettate un secondo Sto capendo un gazz C'ho tipo questi qua No C'ho dei tardi Ne ho tanti Così questi Ancora Ma chi è questa La usura La usura di soreta No Io uso tutto Sti cazzi Merda E la usura Ce ne sono altra Ce ne sono il doppio Se hai tempo di lamentarti Oh si è congelato No Scappo Vieni qua Vieni vieni Vaffanculo Dai via No Stronzo Che macello Che macello No Dai via Merda Merda No viene ucciso Viene ucciso Viene ucciso Eh no Non si uccide Castellanos Dai Giosef Giosef La marella impestata Ultimo colpo Baby Baby poi E se no Mamma mia Tutti No Sono morto Ok Ok veloci Fino a qui Vaffanculo Ma sono troppi Sto Iosef Inutile Ok C'è sta specie di dardo Questo qua Non è No Stronzi Ah ma c'è Le granate Anche Anche al massimo No No Diciamo che è stato un bel scambio di danni Arrivo Arrivo prendo la bocca Anche a me Andiamo Merda Ma sono questa nera 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 Ah qui c'è un salvataggio Possiamo continuare così Io Dico che dobbiamo uscire di qui il prima possibile Che nel 10 della torre Possiamo farci un'idea del posto Qualsiasi posto sarà meglio di questo Dove hai la pistola Perché non gli posso dare un fucile Un cecchino Fighissimo Questo è il solito fucile A otturatore Il girevole Con mirino E' vecchio Ma è ben tenuto Va bene Ok Ok adesso il cecchino Lo metto sotto Le granate No sotto stanno le cure Vabbè posso curarmi mettendo pausa E' meglio Ricarichiamo un po' le armi Uh qui c'è lo specchio Posso andarmi a potenziare Dove vado a prendermi anche i colpi Che qui Come si creavano i cosi Vabbè andiamo Potenziamoci E chiudiamo l'episodio Ritornando qui Che succede adesso Ah stavo guardando le foto Madonna cara Questo è sempre attento Ok Ho trovato una chiave Vediamo che troviamo di buono Se continuiamo qua Voilà Un cervello 5.000 E dai Non ti baggare Ok 5.000 Prende i fucili Prendo questo E' uno solo Non me ne giudiamo la volta Dai Non lo riesco a prendere Guardate Guardate Lo schifo Ah L'ho preso Fanculo Va bene Lo salviamo Salve signorina E vediamo un po' Ah mi sono stanca Ah spero volevo vedere Gli annunci qua Non c'è niente Qui Niente giornale Qui la porta è chiusa Vediamo la stanzetta Dei miei sogni Magari c'è qualcosa Prende il cesso Non c'è un cazzo Va bene Potenziamoci Anche se ho pochi Pochi cervelletti E voilà Direi Mentre la vita È da godarti Danno corpo a corpo Questo non l'ho aumentato Più voi Sì perché ero morto E poi non me l'ha Dato Mementiamo i danni Del fucile Da cecchino Perché già è potente Ok Va ravitata Una cosa Fa una Danno corpo a corpo Ok Potenzio cose e caso Può essere utile Tanta roba E continuiamo Cioè andiamo di là Usciamo da qui E ci vediamo Al prossimo Il zonio Chissà qui cosa ci aspetta Fammi vedere un po' Il cecchino Ah c'è Con asi zoom Non è tanto scomodo È comodo dai 5 colpi Che fortuna Bene Posso parlarti Beh ragazzi Dei di chiedere Il quadro di episodio Abbiamo affrontato Un'ordata di nemici E sono morto Un paio di volte No una volta E come sempre Ci vediamo Al prossimo video Ciao